Cos'è una chiave musicale? Il termine chiave è un termine podissemico che ha più significati. La chiave musicale è il termine con cui si indica un simbolo che dà il nome alle diverse note disposte nel pentagramma musicale. Abbiamo in tutto tre chiavi diverse, la chiave di SOL, la chiave di DO, la chiave di FA, come indicato nell'immagine che vi ho fatto vedere. Ciao ciao, al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!